Un saluto a tutti. Benvenuti alla terza puntata di Accessibilissimo. Oggi è qui con noi la signora Anna Valente, mamma di quattro figli, di cui una sorda. Abbiamo voluto che fosse nostra ospite per dare la possibilità al pubblico di comprendere cosa può voler dire per una mamma avere un figlio sordo. Benvenuta. Grazie. Quando hai scoperto che tua figlia Manuela era sorda? L'ho scoperto quando la bambina aveva soli tre mesi. Avevo notato un comportamento un po' strano. Infatti, quando c'era un rumore forte e improvviso, vedevo che la bambina restava tranquilla. Quindi ho consultato uno specialista che mi ha confermato che purtroppo la bambina era sorda. Nel momento in cui hai scoperto che tua figlia era sorda, che non reagiva ai rumori, che tipo di reazione hai avuto? All'inizio non è stato semplice. Ho dovuto affrontare molte difficoltà perché pensavo alle difficoltà di comunicazione che Manuela avrebbe avuto crescendo, ma alla fine ho capito l'importanza della lingua dei segni. Quando hai scoperto la sordità di Manuela, cosa ti hanno suggerito di fare i medici rispetto al percorso riabilitativo da adottare per tua figlia? Molte volte, quando parlavo con i medici, mi dicevano di non farle utilizzare i gesti perché la bambina doveva parlare, ma mi chiedevo in che modo, perché in realtà incontrava molte difficoltà ad articolare le parole a parlare. Io non le ho ascoltate. Quindi ti suggerivano di non farle utilizzare per niente la lingua dei segni? Assolutamente. Mi dicevano deve tenere le mani ferme, ma io non credo che sia una bella cosa. In realtà la LIS è fondamentale per la comunicazione, anche nel rapporto tra genitori e figli, anche se c'è di fatto la possibilità, qualora sia presente una buona lettura labiale, di fare una scelta oralista. Ma tu perché hai deciso di imparare la lingua dei segni? Ho cominciato ad imparare la lingua dei segni dieci anni fa, frequentando un corso privato per due buoni motivi. Naturalmente perché è una figlia sorda e per il suo bene volevo comunicare facilmente con lei. E poi perché sono una testimone di Geova e nella nostra comunità ci sono diverse persone sorde che noi aiutiamo nella comprensione della Bibbia, però non semplice. Non sempre gli udenti sono disposti ad aiutare i sordi a comprendere le sacre scritture. Noi, con non poco sforzo, andiamo nelle loro case per trasmettergli gli insegnamenti della Bibbia, anche attraverso un DVD in lingua dei segni. Davvero molto bello. Grazie a questo molti sordi hanno accettato di studiare insieme a noi i testi sacri. Quindi due motivi importanti, accomunati all'unico obiettivo di comunicare con le persone sorde per una questione di empatia. So che circa dieci anni fa Manuela ha dovuto affrontare molti problemi in ambito scolastico e so che tu hai condotto una lunga battaglia. Ti va di parlarcene? Manuela, fino alle scuole elementari, ha frequentato l'Istituto Speciale per Sordi di Manduria. Poi però ha scelto di frequentare la scuola insieme ai ragazzi udenti. Purtroppo ha incontrato innumerevoli difficoltà perché tutti parlavano tra loro e per lei era impossibile leggere il rabbiale. Poi con l'insegnante di sostegno, cercando su internet, abbiamo saputo che era possibile presentare alla provincia una richiesta per ottenere un supporto che ci è stato negato per molto tempo. Solo in seguito alle nostre insistenze, finalmente, a mia figlia è stata affiancata per la prima volta Angela Buta come assistente alla comunicazione. Ricordi per caso che anno era quando avete iniziato questa battaglia? Considerando che mia figlia è nata nel 1992, si trattava delle scuole medie e aveva grossomodo 11 anni. Beh sì, aveva 11 anni quando per la prima volta è stata affiancata da un assistente alla comunicazione che riveste un ruolo fondamentale nel mediare la comunicazione tra gli allievi sordi e gli insegnanti. Dunque un ruolo diverso rispetto a quello dell'interprete. Quando finalmente la provincia vi ha garantito questo servizio, come ti sei sentita? Mi sono sentita sollevata, contenta, però di fatto ogni anno ho dovuto presentare richiesta, fare continue telefonate per avere risposte circa all'avvio del servizio che nessuno però era mai in grado di darmi. Questo purtroppo è un problema istituzionale. Ogni anno è necessario presentare richiesta per avere un servizio che fino alla fine non si ha la certezza di ottenere. Non esiste una garanzia in ambito scolastico. Pertanto quasi tutti i genitori sono costretti a lottare per vedere garantito un servizio che consenta ai propri figli di svolgere serenamente il percorso scolastico. Ma dimmi un po', adesso cosa fa tua figlia? Quest'anno si è diplomata, vorrebbe prendere la patente e in più è iniziato a frequentare un corso per la ricostruzione delle unghie che le piace molto, anche se in realtà è molto impegnata con i preparativi del suo matrimonio che sarà il 12 settembre dell'anno prossimo. Ha trovato un fidanzato sordo e io ne sono molto contenta perché avendo imparato la lingua dei segni posso comunicare con lui tranquillamente. Il che vuol dire che è cresciuta bene, grazie anche all'educazione impartita da voi genitori. Poi, tra le altre cose, sta organizzando anche il suo matrimonio, quindi non c'è alcun problema di comunicazione. Ultima cosa, che consiglio ti senti di dare al nostro pubblico? Io, mamma odente di una figlia sorda, inizialmente non capivo l'importanza della lingua dei segni perché non ero a conoscenza. Poi finalmente ho capito che dovevo impararla e adesso sono molto felice perché facilita la comunicazione con le persone sorde. Per favore, mi rivolgo a voi genitori udenti che avete figli sordi. Aiutateli imparando la lingua dei segni perché vi faciliterà nel rapporto con loro. Ve lo chiedo per favore. Questo è un consiglio molto importante che offre ai genitori dei figli sordi la possibilità di confrontarsi con una persona che ha vissuto la loro stessa esperienza, traendone spunti di riflessione e anche sull'importanza della LIS che non deve essere mai negata perché è fondamentale nel rapporto empatico tra genitori e figli. Grazie di aver accettato il nostro invito. Arrivederci a tutti.